Entriamo da Olive Young, stop imperdibile per amanti del K-Beauty Hanno le catene per uomo, ebbene sì ragazzi Qua alcuni brand, anche italiani, che sono venduti anche qua La armocromia, voi non potete capire, è tutto diviso per colore Vi faccio conoscere qui alcuni dei brand tipici coreani, che io amo E maschere ovunque